Rieccoci qua, bentornati a Marketing in Edilizia, il nostro podcast per le aziende che operano in edilizia, i loro titolari, i loro collaboratori. Qui oggi per la puntata numero 52, ci teniamo a dire che abbiamo sfondato il muro dei 50, c'è Ivan Cominelli che è… Ciao a tutti! Ciao Ivan! Ivan è un copywriter, lo voglio ricordare qui, quindi è uno stratega dei contenuti e anche… li produce anche, appunto, e oggi ci viene a parlare di un argomento di cui vogliono sempre parlare tutti, e cioè i social, quanti e quali utilizzare in edilizia. Lo vediamo insieme a Ivan dopo la sigla. Allora Ivan, sei venuto a parlare dell'inferno, no? Giusto, vero? Tu sei venuto a parlare del male assoluto. Esatto. Il girone d'altesco dei dannati dei social. Esatto, sì, esatto, perché i social, che appunto sono un prodotto del demonio, come tutti i prodotti del demonio, attirano moltissimo, giusto? Cioè, tantissime delle aziende con cui lavoriamo vogliono assolutamente fare i social, cioè non si discute su questa cosa. È giusto o è sbagliato? Ovviamente, come al solito nel marketing, non c'è una verità scritta nella pietra, ma dipende da caso a caso. Quindi, oggi affrontiamo queste due domande, perché ovviamente i social sono un mondo sterminato, su cui si potrebbe parlare per anni, e tra l'altro ci sono alcune puntate sui social, che noi abbiamo già fatto, con altri tipi di domande a cui abbiamo risposto, ma oggi con Ivan parliamo di quanti e quali social è legittimo, giusto, profittevole utilizzare in edilizia. Quindi io, Ivan, ti lascio fare questa bella introduzione, poi vediamo come va la nostra ghecchierata, insomma. A te, a te la parola. Iniziamo col dire che è giusto chiedersi quanti e quali utilizzare, perché praticamente ogni anno ne nascono di nuovi, e siccome le giornate durano 24 ore per tutti e non si possono lavorare tutte e 24, bisogna fare delle scelte, ecco. Già. Partiamo con una mara verità, ovvero che gestire i social è un lavoro, è un lavoro che porta lì a tempo, come chiunque abbia provato, al di là del fare il singolo post, ha appunto riscontrato il fatto che gestire i social non è una cosa che si può fare in 5 minuti, ecco. Ti puoi aiutare con l'intelligenza artificiale, sia con i testi che con le immagini, ma devi comunque usare la testa, perché l'intelligenza artificiale deve essere guidata, sia per le immagini che per il testo, devi avere una strategia dietro, devi sapere che cosa pubblicare, devi sapere come i contenuti devono essere scritti, che cosa vuoi comunicare, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, una bella serie di cose che si aggiungono all'operatività, no? Quindi bisogna pensarci bene, però, ecco, se io ti volessi fare questa domanda, e cioè, quanti social utilizzate in inizia? Cosa mi risponderesti? Allora, la risposta migliore da dare, in questo caso, è il maggior numero possibile. Non c'è un numero preciso, perché dipende da quello che riesci a gestire, però, ecco, il fatto è che le persone si sono abituate a essere su cento piattaforme, a vedere i brand ovunque, e dedicano sempre meno tempo alla singola piattaforma, perché se una persona, diciamo, utilizza tanto i social, non parlo ad esempio di me, perché io sono, lavorandoci, sono diventato proprio antisocial, però, nel senso, la persona media passa un po' di tempo su Facebook, un po' di tempo su Instagram, un po' di tempo su TikTok, e sicuramente il tempo che dedica a ciascuna di queste piattaforme è meno del tempo che dedicava quando c'era solo Facebook, per forza di cose, perché il numero di ore che possiamo dedicare ogni giorno alla fruizione dei contenuti non può aumentare più di tanto. Sicuramente non aumenta come la velocità di produzione dei contenuti, ecco. Per cui, più piattaforma riesci a gestire, più tu hai la possibilità di andare di fronte al tuo potenziale cliente, ecco. Per cui, l'obiettivo è cercare di avere il maggior numero possibile di punti di contatto con il cliente, punti in cui il cliente può venire a sapere di te, venire a sapere cosa hai da dire, cosa puoi fare per lui. Ok, quindi, insomma, presidiare, ecco, poi alla fine... Esatto, esatto. Presidiare i posti, tra virgolette lo mettiamo, dove stanno le persone. Ecco, e come scegliere quanti, cioè come scegliere fra questi quanti? C'è una formula che possiamo suggerire per fare una scelta profittevole e oculata su quanti? Allora, dipende tutto dal tempo che ci vuoi dedicare. Di base penso che un ottimo metro sia quello del principio di Pareto. Il principio di Pareto dice che l'80% dei risultati viene dal 20% dello sforzo. Quindi quello che dovresti fare è ragionare su, dato che puoi dedicare un tempo X alla produzione di contenuti per i social, alla strategia, alla creazione delle immagini, quali sono i canali social che tu riesci a gestire con quel tempo X lì? In base a questo ragionamento, in base al tempo che hai, alla velocità poi, perché anche questa è soggettiva, dipende da persona a persona, con cui riesci a produrre buoni contenuti, buone immagini da mettere, buoni video anche, da mettere sui social, questo determina poi il numero di canali che poi riuscirai a gestire, ecco. Perché un conto è se riesci a produrre solo immagini e testo. Un conto è se riesci a produrre, ad esempio, anche video. Lì le possibilità si moltiplicano. Ok. Secondo te ha senso aprire un canale, se poi non lo usi, io penso a Twitter, che magari le aziende che operano edilizia è un canale che usano, a cui magari non si pensa, ecco, in prima battuta. Così come magari, ma questo poi lo sfaderemo TikTok, magari è una cosa a cui si pensa meno, che si utilizza meno, ha senso aprire un canale se poi non lo usi o non lo usi per niente, cioè non lo popoli, oppure lo usi molto poco, può avere senso? Allora, per anni ci hanno detto di no, che non aveva senso, che dava una brutta immagine, eccetera, eccetera, eccetera. Però questo, secondo me, è un ragionamento molto miope, che non guarda al futuro. Secondo me ha molto senso aprire un canale, anche se sai già che non lo utilizzerai. Però, c'è un grosso però. Devi rendere chiaro, chiarissimo, lampante, che tu quel canale lì non lo utilizzi solo come segna posto, come si può dire, come segnale per dire esisto e utilizzarlo per rimandare ai canali che invece utilizzi. Perché fare questo? Perché tu oggi non sai se magari tra cinque anni Facebook chiude e ci sarà solo TikTok. Non lo possiamo sapere. Il fatto di avere oggi un canale TikTok, un canale Twitter, con il tuo nome fa sì che nessuno con il nome te lo possa rubare. È tuo. Perché andarlo a recuperare dopo quando è già stato preso da qualcun altro è un casino. Quindi, adesso non hai assolutamente tempo di gestire Twitter o di gestire TikTok. Fatti lo stesso al tuo canale con il tuo logo e nella bio, nella descrizione dici questo canale social la nostra azienda non lo utilizza. Se vuoi leggere i nostri contenuti vi inizi a trovare su link a Facebook, link a Instagram, link a YouTube i canali che utilizzi. Ecco, io per esempio faccio un esempio un pochino più non aziendale però sul mio branding personale, no? Come professionista, come copywriter io ho LinkedIn lo uso colpevolmente meno di Instagram perché mi piace di più il tipo di contenuto di Instagram e ho delle rubriche legate al mio lavoro di cui parlo su Instagram ma su LinkedIn nella mia bio ho scritto parlo di questo, questo, questo su Instagram. Esatto. Ed è questo. Sì, però per farla semplice, semplice, insomma, è questa cosa qui. Sì, molto, molto interessante. Però è anche vero che, tu hai detto, in questo momento non hai tempo per seguire Twitter piuttosto che TikTok o un altro social è anche importante tenere a mente che si può aggiungere un canale alla volta, no? Cioè, non è necessario mi prendo questo giorno e vai, apro tutto. È possibile. Esatto. Nel caso in cui è anche no, è anche possibile non fare il passo più lungo della gamba ma poter aggiungere un canale alla volta, giusto? Sì, quella è l'opzione migliore perché ogni canale che aggiungi aggiunge un discreto impegno, cioè, gestire un social non è semplicemente faccio un post pubblico. Bisogna pensare il post, produrre i materiali, inserirli nella piattaforma, verificare che non ci siano magari degli errori, programmarli, poi magari le persone commentano, bisogna rispondere ai commenti, poi magari, non so, cambia il logo dell'azienda oppure c'è una promozione, devi realizzare le grafiche nel formato corretto per tutte le piattaforme. Cioè, c'è un lavoro dietro. C'è un lavoro dietro che richiede tempo il tempo è la risorsa più preziosa e più scarsa della nostra epoca e quindi, prima di iniziare a utilizzare un canale e poi scoprire che non hai tempo di gestire o di portarlo avanti, è meglio, diciamo, che stai già andando a regime con gli altri. Prima vai a regime con un numero di canali X. una volta che hai visto che li riesci a gestire e aggiungi uno, non due, non tre, uno. Uno è possibilmente che comporti il minore sforzo possibile rispetto a quello che stai facendo. Così hai la garanzia di riuscire a mantenere la continuità perché le piattaforme social premiano tanto la continuità. se pubblichi un post oggi, uno tra tre settimane, uno tra due mesi, quei post lì non li vedrà nessuno. È vero, verissimo. Sì, questa è una regola trasversale che occorre sempre tenere a mente. E adesso invece passo all'altra domanda, Ivan. Ti ho chiesto quanti, adesso invece ti chiedo, parlami di quali social per l'edilizia. Allora, questa è un'altra bella domanda e la risposta è sì e no scontata. nel senso della risposta ovviamente è Facebook e Instagram per un semplicissimo motivo che sono canali che è molto facile da gestire con il meno sforzo possibile perché comunicano tra loro ed è possibile collegare l'account Facebook a palo Instagram e carichi il contenuto su una piattaforma clicchi pubblica e te lo pubblica su entrambe e questo è molto vantaggioso dal punto di vista del tempo che come ben sappiamo non c'è mai soprattutto se non si ha una persona che fa solo quello ecco. Comunque sono la scelta migliore per iniziare no? Esatto, esatto, sono semplici da utilizzare tantissime persone li usano anche per per le loro esigenze private quindi veramente passare da non abbiamo i social a abbiamo un canale Facebook e Instagram e ci pubblichiamo è quello che richiede il meno sforzo possibile. C'è però un ma proprio perché sono canali più facili più accessibili da utilizzare sono quelli che usano tutti e quindi c'è sostanzialmente c'è più concorrenza. Certo, giusto. E come ben sappiamo andare in in uno stagno dove è pieno di di piragna ecco è facile che è facile essere mangiati deve essere un piragna più grosso degli altri. Ecco, invece ci sono dei canali che sono di nuovissima concezione nuovissima non più ormai però diciamo di più recente concezione rispetto a Facebook e Instagram parlo di di TikTok che per quanto riguarda un certo tipo di di mercato ma anche un certo tipo di utenti quindi una fascia di utenti è considerato un po' il social dei ragazzini dei balletti e quindi c'è che ci sta a fare su TikTok se io non faccio balletti e non ho 13 anni o questo è un falso mito lo vogliamo sfatare qui in questa in questa puntata Ivan o no? allora poteva essere vero 5 anni fa o addirittura 6 anni fa era 2018 che è arrivato TikTok non mi ricordo esattamente comunque si parla di tanti anni fa parlando di social è un'epoca fa 5-6 anni è un'epoca fa e TikTok sostanzialmente ha seguito lo stesso ciclo che seguono tutti i social che ha seguito Instagram prima di lui che ha seguito Facebook prima di lui ovvero una prima fase sulla piattaforma chi ci va? ci va gli early adopters cioè quelli che adottano prima di tutti le nuove tecnologie le nuove cose i giovani e poi pian pianino iniziano a arrivare le persone un po' più attempate arrivano le aziende arrivano le persone di una certa età fino a che sulla piattaforma poi ci sono un po' tutti i ragazzini si sentono un po' oppressi dai loro genitori arriva la nuova piattaforma ci si buttano sopra e ricomincia il ciclo da un'altra parte e TikTok ormai appunto sono passati tanti anni è una piattaforma matura c'è ad esempio il caso di una di un'avvocatessa americana che durante la pandemia aveva iniziato a fare dei video dove raccontava di come come riuscire tramite leggi magari anche poco note a difendersi da ingiustizie perpetrate da corriere espresso dalla compagnia aerea dal servizio postale e pur parlando diciamo di un argomento non facile è riuscito a farlo in un modo molto personale molto anche interessante e questo ha fatto sì che questo canale esplodesse e questa qua praticamente si è ritrovata sommersa di lavoro di richieste fino a un punto che non sapeva più neanche lei come gestirle proprio perché ha ottenuto un riscontro che non si aspettava e questo molto probabilmente se l'avesse fatto su piattaforme più inflazionate come Instagram o come YouTube probabilmente avrebbe avuto successo lo stesso ma non così tanto come andando su una piattaforma diciamo meno scontata ecco questo è il vantaggio appunto di andare su piattaforme che che non sono così scontate quindi assolutamente TikTok se fai video se te la senti di fare video perché no il discorso è che la maggior parte delle aziende molto probabilmente dei tuoi concorrenti non lo farà quindi sostanzialmente vai lì non hai concorrenti vero vero assolutamente e tra l'altro appunto adesso uso una frase così un po' semplicistica ma veramente TikTok è strapieno di gente che può comprare il tuo prodotto cioè perché ha l'età giusta ha le possibilità giuste è veramente strapieno ormai di queste persone qui perché come ha detto Ivan è una piattaforma che è maturata ormai cioè ormai è avanti probabilmente i ragazzini stanno già migrando verso qualche cosa che noi ancora non conosciamo probabilmente questa cosa è già in atto perché è la natura delle cose cioè è così è normale però un altro grosso vantaggio Vale scusa un altro grosso vantaggio di TikTok è che rispetto ad esempio a Facebook e Instagram dove tu pubblichi un contenuto e sostanzialmente lo vede solo una piccola parte di quelli che ti seguono facendo un buon contenuto su TikTok tu hai la possibilità di farti vedere da tante persone che non sono nella tua rete e se crei un contenuto molto coinvolgente rischi che questo addirittura diventi virale e che possa raggiungere addirittura decine centinaia di migliaia di persone con zero euro spesi ecco questo è un grosso punto di forza insomma perché TikTok funziona ancora così ecco poi magari le cose cambieranno però al momento è ancora così tu hai parlato di video prima no? cioè a proposito di TikTok hai parlato di video però se io devo pensare alla piattaforma di video per eccellenza sicuramente YouTube ma non so cosa ne pensi di YouTube in questo senso? beh che YouTube probabilmente è il il canale è il social se vogliamo considerarlo così più più sicuro di tutti nel senso che innanzitutto non è proprio solo un social ma è un motore di ricerca a tutti gli effetti Google è il primo motore di ricerca al mondo il secondo motore di ricerca al mondo è YouTube la gente va su YouTube a cercare le cose e questo è un grossissimo vantaggio per chi offre prodotti e servizi perché facendoti trovare su YouTube dai tuoi potenziali clienti tu vai a intercettare quella che nel nel marketing si chiama domanda consapevole ovvero se quelle sponsorizzate su Facebook l'algoritmo di Facebook cerca di indovinare quali possono essere le persone a cui può interessare quello che quello che vendi su YouTube sono le persone che vengono a cercarti quindi se tu crei contenuti interessanti che risolvano i problemi dei tuoi potenziali clienti lì veramente hai la possibilità di con ogni video di andare a costruirti un capitale di di media che continuerà a produrre risultati nel tempo a tuo favore perché il brutto dei social è che tu pubblichi il contenuto un post un video dopo 5 minuti non lo vede più nessuno non sono 5 minuti ma per intendersi dopo il numero di persone che vengono raggiunte nella prima giornata che hai pubblicato è probabilmente il 90% delle persone che lo vedrà in tutta la sua vita del post su youtube invece un buon video può continuare a macinare visualizzazioni anche dopo anni che è stato pubblicato è vero è vero pensiamo da consumatori da consumatori anche di video quindi di contenuti su youtube a quali sono i contenuti che magari andiamo anche a rivedere più spesso non parlo solo delle canzoni che magari puoi ascoltare ma ci sono tantissimi creator che magari seguiamo tantissimi youtuber ci sono video che scopriamo magari che sono stati pubblicati 3, 4, 5 anni fa ce li andiamo a vedere e non siamo i soli ecco quindi il meccanismo è un po' questo invece per gli altri che cosa mi dici cioè appunto twitter o linkedin abbiamo parlato prima di linkedin appunto abbiamo accennato se dovessimo dare così una connotazione al resto al resto dei social da usare come potremmo fare un po' quello che dicevo prima ovvero che twitter linkedin pinterest qualsiasi altro social nascerà dopo che abbiamo fatto questo video o che sta nascendo e noi non lo conosciamo fare un po' lo stesso discorso ovvero al momento ci sono meno persone su questi canali che non ad esempio su facebook instagram e tiktok ma solitamente questo significa appunto che c'è anche meno concorrenza e il fatto di andare a presidiare un canale dove i tuoi concorrenti non ci sono significa che hai più via libera ecco e ad esempio linkedin linkedin è molto utilizzato nell'ambito del personal branding perché anche quello non come non come tiktok diciamo però anche quello permette di dare di avere una buona reach ovvero ti permette di raggiungere un buon numero di persone senza investire denaro quali sono le controinducazioni che è più orientato verso la costruzione di rapporti uno a uno cioè sì ci sono le pagine aziendali su linkedin ma il grosso il grosso delle discussioni delle interazioni dell'attenzione avviene tra l'account del del CEO e le persone piuttosto che tra l'account dell'azienda e le persone certo vero comunque tutte queste piattaforme a modo loro possono appunto rappresentare delle grosse opportunità dipende da sostanzialmente dall'uso che ne fai e da quanto tempo hai da dedicare alla produzione di contenuti per i social per ricollegarsi al discorso di prima del principio di Pareto infatti la prossima domanda che ti volevo fare era proprio una domanda operativa cioè fermo restando questa bella cavalcata su social quanti quali come sceglierli con quale criterio sceglierli eccetera eccetera poi un consiglio operativo proprio per produrre e per cominciare e continuare a usarli quale potrebbe essere allora dato che il tempo non è mai abbastanza bisogna adottare quella che nel gergo del copywriting si chiama la tecnica del maiale ovvero del maiale non si butta via niente niente sì e quindi quello che tu devi fare per approfittare appunto al massimo dello sforzo che stai facendo è quello di creare un bel un bel maialone bello ciccione creare un contenuto che puoi spolpare e puoi declinare nelle varie piattaforme nel maggior numero possibile di piattaforme con il minore sforzo possibile ad esempio se hai un un blog aziendale l'articolo di blog è il tuo maiale è un contenuto che funziona di per sé un contenuto intero grosso e tu da quel contenuto lì puoi con pochissimi adattamenti prendi una telecamera ti metti davanti al telefono va benissimo anche il telefono e diventa un video per youtube senza proprio cambiare quasi neanche una virgola oppure hai fatto il video hai dei tagli brevi e quelli diventano tanti contenuti perfetti da pubblicare sui social nel corso delle settimane prendi il video lo trascrivi ci sono dei plugin gratuiti che ti trascrivono il testo di un video parlato e dei pezzi tagliati di questa trascrizione diventano i testi per pubblicare i contenuti sui social questo veramente ti permette di dedicare uno sforzo x ed estrarre n contenuti da questo sforzo che hai fatto ti permette di applicare al massimo il principio di pareto crei un contenuto e ne tiri fuori tantissimi e per quanto riguarda i contenuti vecchi cioè dopo un po' puoi riprendere un contenuto vecchio dopo un po' riprendere un contenuto vecchio che ha funzionato magari e riutilizzarlo a proposito di maiali e vecchi maiali a proposito allora si può si possono riprendere sia i contenuti che hanno funzionato che quelli che non hanno funzionato perché tante volte non è che un contenuto è andato male perché non era buono magari non è andato bene perché non è stato pubblicato al momento giusto o magari le persone che lo hanno guardato non lo hanno visto nel momento giusto quando si parla di contenuti non sponsorizzati il numero di interazioni che ricevono immediatamente dopo che l'hai pubblicato determina poi quante persone lo vedranno dopo perché l'algoritmo premia i post che ricevono tante interazioni subito quindi non è detto che un contenuto che non è andato bene sia negativo a tutti gli effetti quello che volevo dire sulla domanda del riciclo è che sì si possono riutilizzare i vecchi contenuti l'importante è non non abusarne ovvero fai passare del tempo io suggerisco almeno 5-6 mesi dopo vedi tu in base anche a qual è la tua la frequenza con cui pubblichi se pubblichi un post al giorno tutti i giorni per 365 giorni l'anno può darsi che te lo puoi rigiocare anche dopo dopo 3 mesi un post cioè dipende sempre tutto da qual è la tua frequenza puoi riciclarli tali e quali io consiglio sempre di adattarli un pochino anche perché potresti inserire una parolina qui e là legata diciamo al periodo in cui sei in cui pubblichi il contenuto e questo è un ottimo modo appunto per sfruttare in modo diverso la tecnica del maiale ovvero di riutilizzare di non buttare via niente dal lavoro che hai fatto per produrre materiali ecco se poi vedi che lo stesso contenuto riciclato un po' non funziona più chiaramente vuol dire che bisogna girare la pagina certo è una buona come dire è un buon termometro questo molto molto buono e guarda adesso ti faccio l'ultima domanda proprio poi ti mollo perché ti ho distrutto in pratica quindi lo capisco però ti voglio fare una domanda sulla perfezione cioè molti sono bloccati dal fatto che il video viene male la voce fa schifo non ho gli strumenti necessari non ho le luci adatte cioè i contenuti che andiamo a produrre per queste piattaforme devono essere perfetti oppure possiamo prenderci delle licenze assolutamente assolutamente no non devono essere perfetti quelli dei grandi brand sono perfetti e infatti vengono ritenuti per lo più poco poco attendibili poco le persone non si fidano le persone non si fidano la gente piazzano di più i contenuti più simili a quelli che potrebbero fare loro quindi dato che tu non sei un grande brand e anzi vuoi distaccarti dall'immagine finta costruita dai grandi brand ci sta che i contenuti siano imperfetti anche perché nella terra dove tutto è perfetto dove tutti cercano di apparire perfetti a tutti i costi quello che è brutto o imperfetto risalta con questo non sto dicendo che devi fare contenuti brutti a tutti i costi anzi però qualche piccola imperfezione non ti danneggerà ad esempio se tu fai dei video va benissimo che siano fatti anche con il cellulare l'importante è che si senta bene l'audio quello si deve sentire bene perché è molto fastidioso guardare un video ascoltare un video e sentire un audio disturbato però assolutamente non è necessario nessuno si aspetta che la tua azienda piccola azienda che opera su un territorio circoscritto produca dei contenuti come perfetti come quelli dei grandi brand poi c'è da dire una cosa creare contenuti diventa sempre più facile man mano che lo fai i primi contenuti ti creano questa ansia questa resistenza oh mio dio cosa diranno cosa penseranno c'avevo la palpebra che calava non ho parlato bene ho mugugnato dopo man mano che li fai è come diventa quasi una una liberazione ecco diventa sempre più facile ti accorgerai che ti vengono più idee ti accorgerai che se fai ad esempio video parlerai in modo più naturale che se scrivi contenuti scritti ti verranno meglio bisogna solo lasciarsi andare e iniziare perché un contenuto imperfetto è meglio di un contenuto perfetto che non è mai stato scritto pubblicato realizzato ecco assolutamente quindi il perfezionismo in questi casi è nemico ecco non state troppo dopo il perfezionismo ma fate pronuncete esatto Ivan è stata come sempre una puntata super interessante super ricca di spunti io vi consiglio sempre se l'avete ascoltata un pochino così di fretta di riprendere il momento per riascoltare le nostre puntate perché potete prendere anche tanti 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 appunti e in più prima di salutarci oggi vi ricordo se volete che noi trattiamo un argomento in particolare di cui volete sentir parlare potete scrivercelo o potete commentare sotto i video youtube per esempio abbiamo il nostro canale youtube in cui esce il video podcast mentre il podcast esce su spotify quindi potete commentare lì cercate marketing in edilizia e riuscirà appunto la playlist del nostro podcast andate a commentare con qualche cosa che volete che noi trattiamo altrimenti sia su marketingalmillimetro.it che su guidoalberti.it ci sono i nostri riferimenti per mandarci una mail per scriverci e richiedere appunto qualche argomento di cui volete che parliamo che approfondiamo per voi quindi mi raccomando questo lavoro siete autorizzati a farlo assolutamente questo tipo di commenti ci piacciono molto quindi disturbateci disturbateci esatto Ivan grazie mille di essere stato qui in puntata e grazie anche a tutti voi alla prossima ciao ciao